buongiorno e benvenuti al mio canale oggi vedremo come rimuovere lo sfondo da una foto e come sostituirlo con un altro sfondo vedremo come procedere non con un programma per computer neppure con l'intelligenza artificiale ma con delle applicazioni per Android quindi si può fare tutto dal cellulare, dallo smartphone con lo smartphone si possono importare immagini e quindi eliminare lo sfondo da delle immagini e sostituirlo con un altro sfondo chiaramente sia l'immagine a cui rimuovere lo sfondo sia lo sfondo stesso, l'immagine dello sfondo devono essere presenti nel nostro smartphone utilizzeremo due applicazioni la prima è Photo Room Studio, Photo Editor la seconda è Aggiungi Filigrana sulle foto sono entrambe gratuite con una versione a pagamento noi vedremo soltanto le funzionalità gratuite chiaramente hanno un po' di annunci però diciamo così che per quello che servono, che servono per poche volte non è una pubblicità molto invasiva e adesso vediamo come procedere per all'inizio rimuovere lo sfondo da delle immagini successivamente come sostituirlo con un altro sfondo per rimuovere lo sfondo utilizzeremo Photo Room Studio per aggiungere invece l'immagine senza sfondo a un altro sfondo utilizzeremo Aggiungi Filigrana sulle foto adesso passiamo a vedere all'atto pratico come procedere la prima applicazione che ci serve è appunto Photo Room la apriamo, naturalmente dobbiamo concedere tutte le attualizzazioni si visualizzerà un banner in cui ci chiedono se passare alla funzionalità PRO noi lasciamo perdere e chiudiamo questo banner e visualizzeremo questa interfaccia con cui cominciare a utilizzare appunto Photo Room Studio si va qua su inizia da una foto, si tocca sopra si sceglie una foto dalla nostra galleria per esempio e si sceglie la foto a cui togliere lo sfondo si va su Photo ecco, scegliamo per esempio una foto qualsiasi scegliamo per esempio questa foto qua e come vedete automaticamente viene tolto lo sfondo in maniera molto semplice a questo punto dobbiamo salvare questa foto scegliamo innanzitutto lo sfondo scegliamo lo sfondo trasparente vedete perché qui si possono scegliere altri sfondi però con la versione gratuita si può scegliere solo nero, bianco o trasparente noi scegliamo trasparente dopo aver scelto trasparente dobbiamo salvare questa foto quindi andiamo su esporta in basso vuoi passare forse dopo sperateci e adesso si va salva nella galleria e si salverà questa foto nella nostra galleria ecco fatto non ora, non diamo valutazioni per adesso e adesso passiamo all'altra applicazione cioè l'applicazione che si chiama aggiunge filigrana o vero watermark si tocca sopra si va su applica alle immagini e si seleziona lo sfondo da aggiungere all'immagine a cui abbiamo appena tolto lo sfondo originale si va applica alle immagini e si sceglie una foto scegliamo per esempio questa immagine di sfondo qua la selezioniamo andiamo sul check per aprirla e quindi si va su aggiungi filigrana per aggiungere una filigrana si va su seleziona dalla galleria si tocca qua si seleziona la galleria e si aggiunge come filigrana la foto a cui abbiamo tolto lo sfondo cioè questa se vi ricordate ecco fatto adesso noi non facciamo altro che posizionarla come vedete c'è un watermark che viene aggiunto alla foto ma noi possiamo per esempio posizionarla in modo da non visualizzare questo watermark e poi si può anche aumentare la dimensione vedete si può chiaramente anche spostare ecco fatto poi si va sul colore qui in basso perché automaticamente viene applicata un po' di trasparenza noi la trasparenza non la vogliamo visualizzare noi si va sul colore e andiamo su opacità 100% ed ecco fatto che noi abbiamo aggiunto un altro sfondo alla nostra immagine a questo punto non resta che applicare in alto a destra e adesso si va su salva per salvare questa immagine che verrà salvata nella galleria che noi possiamo adesso naturalmente ci sarà l'elaborazione e adesso questa è l'immagine salvata nella galleria questa è un po' di pubblicità che dobbiamo nascondere ecco questa è l'immagine salvata nella galleria con una foto a cui abbiamo eliminato lo sfondo che è stata sostituita da un altro sfondo scelto a piacere da noi e tutto questo l'abbiamo fatto con android e con due applicazioni utilizzate con l'account gratuito cioè senza spendere assolutamente nulla naturalmente possiamo fare un'altra prova si torna sulla applicazione quell'altra la photo room si tocca sopra e stavolta si va nella home e si aggiunge un'altra foto quindi si va su inizia da una foto si sceglie un'altra foto dalla galleria scegliamo una foto più complessa per vedere come funziona c'è questa che è una foto molto complessa vedete con uno sfondo molto complicato come vedete la rimozione ha funzionato perfettamente possiamo tornare indietro e magari provare con un'altra foto ancora più complessa proviamo con questa foto che è ancora più complessa vediamo se riesce a eliminare lo sfondo come vedete l'ha eliminato perfettamente anche da questa foto facciamo quindi questa foto come avete visto prima si sceglie lo sfondo trasparente dopo aver scelto lo sfondo trasparente si va chiaramente su esporta come vedete c'è un watermark ma poi lo possiamo anche nascondere eventualmente oppure lo possiamo anche lasciare se ne uscita fastidio andiamo su esporta e a questo punto si fa sulla salva nella galleria sempre con lo sfondo trasparente la prima parte è stata fatta adesso si passa alla seconda parte cioè quella con l'utilizzo dell'applicazione watermark cioè aggiungi filigrana ci si tocca sopra si va su applica alle immagini a questo punto si sceglie un'immagine un'immagine di sfondo con l'immagine di sfondo scegliamo stavolta questa qua una selezionata andiamo sul check e a questo punto si seleziona dalla galleria la filigrana la filigrana non è altro che la nostra immagine in png che abbiamo salvato andiamo su foto ecco l'immagine in png che abbiamo salvato la selezioniamo ed ecco che viene posizionata sopra allo sfondo ovviamente la posizioniamo un po' meglio aumentiamo la sua dimensione la posizioniamo ancora meglio magari se possiamo nascondere questo qua diminuiamo un po' la dimensione e adesso andiamo sul colore per togliere tutta la trasparenza e lasciare soltanto totalmente la opacità andiamo sul colore mettiamo al 100% l'opacità quando abbiamo messo al 100% l'opacità andiamo su applicare per applicare appunto questo qui che sarebbe un watermark ma in realtà non è un watermark ma è una immagine png applicata sopra un'altra immagine andiamo su applicare e adesso andiamo su salva ecco fatto possiamo aprire l'immagine che abbiamo appunto salvato qui c'è la pubblicità chiudiamo ed ecco l'immagine come vedete è sensazionale che naturalmente possiamo adesso l'abbiamo nella nostra galleria la possiamo pubblicare sui social oppure la possiamo inviarcela per email nel computer oppure possiamo fare quello che ci pare questa volta come vedete è una foto a cui è stato cambiato completamente lo sfondo rispetto a quello originale e si tratta anche di uno sfondo piuttosto complicato rifletto le applicazioni sono photo room studio per eliminare lo sfondo e watermark o aggiungi filigrana per aggiungere l'immagine png senza sfondo su un'altra foto prima di concludere un'ultima cosa come certamente vi sarete accorti le immagini salvate da photo room studio sono in formato png si può anche verificare si apre un nostro file manager questo è one plus 8 si va appunto su foto andiamo su foto scegliamo photo room come vedete c'è una cartella apposta che si chiama appunto photo room ci si tocca sopra come vedete le immagini salvate da photo room con photo room sono tutte in formato png quindi sono è un formato ovviamente che può essere aperto anche con gli smartphone ma che può essere utilizzato in altri modi oltre a quelli che abbiamo visto possiamo utilizzarli o per esempio con l'applicazione vn video editor per posizionare una immagine in png sopra un video per esempio questo è interessante anche per creare magari dei fotomontaggi video oltre che dei fotomontaggi con immagini questo è vn video editor si va sul più per aggiungere un processo si va su new project si seleziona un video selezioniamo questo andiamo sul next e a questo video noi possiamo aggiungerci posizionare meglio una immagine in png si va qui su tap to add sticker si tocca sopra si va su video foto e si sceglie una immagine in png di quelle che abbiamo appunto salvato in png con quell'applicazione la selezioniamo per esempio selezioniamo questa qua e la posizioniamo come ci fare sul nostro video possiamo allungare la dimensione dell'immagine come vogliamo e possiamo far andare il video come vedete con una immagine posizionata sopra al video quindi possiamo creare dei fotomontaggi ovviamente con vn video editor insieme a appunto photo room quello per rimuovere lo sfondo dalle immagini e questo è tutto alla prossima volta vi è stato un po' di attrazione e questo è tutto